Keramica Ci sono ciene 21, 25 Obre tamno Non so quale è debilina o quale ci stavano 8, 10 milimetri Non so quale è un pozzo Non so quale è un pozzo È un pozzo Quale è l'èpile È un pozzo 12 mm 12 mm non è 12 mm non è 12 mm non è 20 mm 20 mm fino� ma Grazie a tutti.